L'annuncio su un post nella tarda serata di ieri. La notizia è diventata subito di dominio pubblico, rimbalzando sul web. Il centro di oggi ne ha dato ampio risalto. L'assessore al comune di Chieti, Enrico Raimondi, si è dimesso. La lettera di dimissioni è già arrivata in comune per essere protocollata. Oggi non è stato possibile sentire il diretto interessato. Abbiamo però intercettato il sindaco Ferrara, che spiega. Rappresentano l'epilogo condiviso tra me e lui. Da almeno tre settimane sono venuto a conoscenza delle intenzioni dell'avvocato Raimondi di rescedere dal suo incarico di assessore per motivi squisitamente professionali, ovvero gli impegni nel suo studio privato, le lezioni all'università e un imminente probabile incarico professionale a livello nazionale, istituzionale e nazionale molto importante, non gli consentirebbero la dovuta costanza e presenza in giunta e in maggioranza. Non sono motivazioni politiche? Nella maniera più assoluta. I rapporti di stima professionale, di affetto e di militanza nella stessa amministrazione, nella stessa maggioranza, non sono mai stati messi in discussione. Raimondi aveva delle idee pesanti. Chi le ricoprirà, ha già pensato? Allora guardi, in questo momento sinceramente ho tantissime cose a cui pensare. Il primo obiettivo ed il primo problema è quello della redazione del bilancio previsionale che dovremo approvare in giunta, mandare al Ministero, indirizzare al Ministero per l'asseveramento e poi portarlo in Consiglio Comunale. È chiaro che nella mia testa adesso si aggiungerà anche questo problema e di come risolverlo, però non ho l'urgenza di farlo né domani né dopodomani.